Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia, benvenuti in questo nuovo episodio della nostra rubrica dedicata agli armamenti dell'ereggio esercito. Quest'oggi parleremo di un fucile anticarro di origine svizzera, penso che lo conosciate tutti, il Solothurn S18000, che fu utilizzato ampiamente dall'esercito italiano durante tutto il secondo conflitto mondiale. La Solothurn era una controllata di erano in metal per produrre armi fuori dal trattato di Versailles, infatti la Germania non poteva produrre armi. Trasciando questo, questa azienda progettò un precedente modello di fucile anticarro, il Solothurn S1800, però questo modello fu aggiornato e così abbiamo avuto la versione S18000. Praticamente questi aggiornamenti riguardavano avere una cartuccia di misura superiore, infatti equipaggiava la 20x138 mmb per dare una maggiore cerita di tiro. Comunque diciamo che è stata una scelta piuttosto infelice perché ciò generava un rinculo troppo eccessivo e bisognava aumentare le dimensioni della canna ovviamente per ottenere anche una maggiore velocità di tiro. Tutto questo aumentò il suo peso e quindi ne rendeva difficile la sua mobilità nel campo di battaglia. L'arma fu adottata da reggio esercito nel 1940 con un primo lotto di S18000 conosciuti come Carabina S, anche se di Carabina non avevano nulla, essendo piuttosto lunghi e anche piuttosto pesanti. Comunque furono ridenominati nel 1942 con fucile anticarro S, con questa denominazione. Mentre per i tedeschi era conosciuto come 2 cm pack. L'arma ebbe una notevole diffusione distribuita in 6 pezzi per battaglione, soprattutto nel teatro nordafricano, dove fu installato anche sulle camionette Fiat Spa AS42 Sariane. Ed addirittura come armamento principale su alcuni carri leggeri L3-33. Dopo l'8 settembre del 1943 venne piegato anche dall'esercito nazionale repubblicano dell'RSI, ma con scarso successo, dato che ormai le corazzature dei carri nemici si erano in spessite. Parlando della tecnica con cui è stato costruito questo fucile anticarro, bisogna dire che era un fucile semiautomatico in configurazione bullpup, servito da due uomini, il tiratore e il caricatore. L'arma è camerata, come avevo già detto, per la munizione 20x138 mmB. La stessa delle mitragliere Breta 20-65 modello 1935 e scotti sotto a fraschini 20-77 modello 1941. In particolare il fucile impiega un cartoccio granata perforante da 20 modello 35, con tracciatore ed una cartuccia da esercitazione. L'azione è a corto rincuro, con l'otturatore vincolato alla canna tramite un anello rotante, che in posizione di chiusura impegna con delle lette sul profilo interno le apposite scaranature sulla parte anteriore dell'otturatore. Al momento dello sparo, canna ed otturatore rinculano solidali prima che l'anello, costretto a rotare, svincoli l'otturatore. Mentre il rinculo della canna viene arrestato dalla morra di recupero, che la riporta in avanti, l'otturatore rimane libero di rinculare, estrae ed espalle il boss solo spento e, per effetto della molla, torna in chiusura accamerando una cartuccia carica, sfilata da un caricatore a serbatoio inserito sul lato sinistro del castello. La canna dispone di un freno di bocca a 5 luci per smorzare il potente rinculo ed è rapidamente sostituibile. Il sistema di scatto è a grilletto e l'arma viene imbracciata come un normale fucile. Anteriormente poggia su un robusto bipiede regolabile, mentre posteriormente su un piedino pieghevole incernierato sotto al calcio. L'arma dispone di mire metalliche con alzo regolabile da 100 a 1500 metri, mentre installabile un mirino telescopico a 2,5 ingrandimenti. Per quanto riguarda le prestazioni, a una distanza di 400 metri, avendo un impatto a 15 gradi, la perforazione è di circa 20 mm di acciaio omogeneo, mentre a 500 metri, avendo un impatto a 0 gradi, la perforazione è di 30 mm di acciaio omogeneo. E qui possiamo sicuramente affermare che già dal 1940, anche 1941, era sicuramente obsoleto. Quindi, diciamo che il suo unico vero utilizzo poteva essere come fucile antimateriale o fucile pesante da cecchino, cosa che non fu utilizzato ovviamente dall'esercito italiano, ma sicuramente la versione antecedente che era stata venduta alla Finlandia, stiamo parlando dell'S1800, fu utilizzato, diciamo, ottimamente in questo ruolo. Comunque ragazzi, qui finisce il video. Vi ricordo di lasciare un like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e di commentare facendomi sapere la vostra su questo pezzo anticarro. E niente, non ci vediamo alla prossima, arrivederci! Grazie a tutti!